Annunciato al pubblico il nuovo iPhone 11 e iPhone 11 Pro, il nuovo Apple Watch, il nuovo servizio Apple Arcade e tante tante altre novità. Salve a tutti, Marco Casario qui e effettivamente Apple sta vivendo un momento estremamente positivo. Oggi c'è stata la sua annuale conferenza di settembre, di solito questo è un evento in cui viene appunto introdotta la nuova, sapete Apple funziona un po' a cicli, e la conference di settembre è quella dove si annunciano i prodotti iPhone e relativi, quindi tutto il cosiddetto iPhone line up. Ebbene, ci sono state le novità, è stato quindi annunciato, lo potete andare a vedere anche adesso la registrazione, è stato annunciato in diretta, quindi potete andare a vedere la registrazione, fatto sta che Apple ha appunto annunciato l'iPhone 11, che uscirà, sarà il successore dell'iPhone XR, che in questo caso è lo standard iPhone 11, avrà uno schermo di 6.1 inches, avrà una dual rear camera, avrà tre camere, un nuovo wide angle, avrà l'ultra wide, con 120 gradi di campo, tre optical zoom, insomma sembra proprio un signor smartphone, dal punto di vista della CPU ha detto che monterà un A13 Bionic processor, e a detta di Apple sarà lo smartphone più potente sul mercato. E poi non solo, ha annunciato Apple la nuova serie dei Watch, quindi il Watch Series 5, che avrà un display always on, che avrà una batteria che durerà 18 ore, che avrà una bussola che permetterà di usare quindi i Maps, e poi ancora i nuovi iPad che verranno lanciati con uno schermo di 9.7 inches, e il nuovo, la nuova versione del sistema operativo per l'iPad, che supporterà il Retina Display, e poi il nuovo supporto all'Apple Pencil, insomma, e l'Apple Arcade, che permetterà con un abbonamento di 4,99$ al mese, per l'intera famiglia, darà la possibilità di avere a disposizione dei giochi. Quindi, annunciato il 19 settembre, uscirà in, mi sembra, in 150 paesi. Insomma, davvero, davvero, davvero ricca gli annunci che ha fatto Apple, e il titolo che cosa fa in borsa? Andiamo a vedere un po' il titolo. Ragazzi, il titolo di Apple è molto appetibile ancora, perché rispetto ai suoi, diciamo così, compagni nelle cosiddette FANG Stock Companies, è ancora molto appetibile il prezzo di Apple. Sta adesso oggi a 214$, vedete che la candela di oggi praticamente è ferma, un po' come la candela di ieri, quindi non c'è stato un grande incremento, nonostante i grandi annunci. Siamo del resto vicini, ragazzi, a questi massimi qua. Vedete il prezzo qua tre volte ha provato a sfondare il massimo a 216$, una volta a maggio, una volta l'ho fatto ad agosto, poi ci ha riprovato a metà agosto e ci sta riprovando adesso a settembre. Sarà molto interessante vedere se verrà di nuovo respinto o riuscirà invece a rompere, e se dovesse rompere, come al solito, andiamo a guardare a sinistra, che cosa vediamo a sinistra? Vediamo le strutture di prezzo. Guardate, adesso ve le faccio vedere, c'è questo prezzo qui sopra, i massimi, ve li ricorderete probabilmente di Apple, vicino ai 235$? Sì, non li aveva toccati, eccolo qua. Vedete, qui stavamo a ottobre del 2018, prima della grande discesa che ha riportato il prezzo addirittura a 140$. Qui chi ha comprato a 140$ ha fatto veramente un grande acchiappo, diciamo così. Il prezzo, considerate che da questo momento qui, da gennaio del 2018, ha fatto il 50%, un colosso come Apple, la cui azione ha fatto il 50% in 9 mesi. Incredibile se ci pensate, no? Del resto Apple, ragazzi, è appetibile anche per un altro motivo. È appetibile perché, andiamo a vederlo un po', andiamo a vederlo un po' da qui, ve la faccio vedere sul Yahoo Finance, andiamola a cercare. Perché ha un cash flow impressionante, è veramente seduta l'azienda su una pila di soldi pronti all'uso. Perché, ragazzi, è importante per un'azienda far vedere agli investitori che ha cash flow da spendere, ha liquidità da spendere? Beh, è importante, ve lo dico io, perché? Perché vuol dire che può fare investimenti, può fare investimenti, può sbagliare e ha soldi per fare altri investimenti, per aprire nuove opportunità di business, nuove direttrici, magari un nuovo business model che non c'era, fare investimenti su macchinario, su risorse, su personale. Insomma, ragazzi, AAPL, non so perché oggi non me lo carica, volevo farvelo vedere, vi faccio vedere un po' il cash flow dell'azienda che, come vi dicevo prima, è davvero impressionante. Se andiamo su financial, market cap di 949 billion, vicinissima di nuovo al trillion. Quindi andiamo su financial, volevo farvi vedere il cash flow. Se ve lo andate a vedere con calma e a studiare, il cash flow fa veramente impressione. Guardate qua, questi sono il cash flow dalle operating activities, e qui abbiamo il net cash provided dalle operational activities. e ragazzi, ha praticamente soldi per fare una guerra. Andate qua sull'ultima riga, free cash flow, e vedete dell'ultimo il corrente, quindi quello di quest'anno finora, parliamo di queste cifre. Sono in bilioni di dollari. 58, ok? Ha sempre avuto tantissimo cash flow Apple, che è una cosa estremamente positiva. Quindi, per tornare qui al grafico, siamo su un punto molto molto importante, a dire la verità. Quindi sarà molto interessante vedere che cosa succederà al titolo, anche perché, eccolo qui, aspettate che ve lo porto su. Vedete che, guardate, questo prezzo qua ragazzi a 2,14, ha funzionato come supporto in passato e come resistenza queste volte qui. Quindi vuol dire che è proprio una struttura che il mercato sente tanto su Apple. Io vi dico la verità, ce l'ho in portafoglio, i ragazzi che seguono il mio corso sull'azionario. È una delle aziende che abbiamo nel portafoglio. Il portafoglio l'abbiamo costruito nel 2019, abbiamo avuto la fortuna di prendere questo ritracciamento. Non ho comprato qui, ma ho comprato poco più sopra, perché come al solito mai comprare quando avete un treno che vi viene incontro, perché il prezzo potrebbe ancora scendere, aspettare invece i primi segnali di crescita. Però ragazzi, Apple, con tutti gli annunci che ha fatto, si porta dietro anche tutta una serie di società collegate ad Apple, perché sono dei supplier di Apple, perché forniscono Apple di hardware che Apple usa per i suoi prodotti. Per esempio, LG Display, per quanto riguarda gli schermi, LPL è il titolo. Guardate, e qui vedete che il titolo è piuttosto basso, qui andate a toccare a fare questo doppio minimo, qui adesso è a 6 dollari. Qual è un'altra? Sempre parlando di schermi, abbiamo Lumentum, eccola qua, 57 dollari, vedete, ha avuto questi minimi qui in basso, poi è risalita, è andata a toccare questi massimi, è riscesa di nuovo e si trova qui. Quindi questa è un'altra azienda che potete stare a guardare, c'è Qualcomm, gigante, colosso americano, ancora collegato ad Apple, perché è un supplier di Apple, questa è un'azienda sulla quale più volte in passato, anche qua sul canale, abbiamo fatto opzioni, queste due linee che vedete blu, erano proprio delle put che siamo andati a vendere. E poi, qual è ancora? Broadcom, Avgo, eccola qui, altra azienda, ok, anche questa, che è rimbalzata su una resistenza importante a 2,61, adesso sta di nuovo verso i 300 dollari. Ragazzi, è importante, quando fate azionario e c'è un'azienda che comunque utilizza altre aziende per il lancio di nuovi prodotti, è interessante andare a vedere anche queste altre aziende, che cosa stanno facendo, perché sono comunque collegate, e Apple è un colosso, quindi di fornitori ne ha tanti, e li usa tanti, gli da tanti, tanti soldi. Direi che per oggi il video è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Apple, e voglio anche sentire la vostra opinione, lasciatemi qua sotto un commento, un like se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo prestissimo, ragazzi, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao.